Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. In direzione Pisa rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e in direzione Mare Coden uscita a Santa Croce. Su raccordo Siena-Firenze per lavori è chiuso lo svincolo di Poggi Bonzi Sud in uscita in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via Pisana per lavori di vieto di transito tra via della Casella e via Attavante. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!